Le donne sono come un liquido, un liquido caldo e profumato, ma non ci distraiamo, rimaniamo sul pezzo. Come un liquido vuol dire che le donne tendono ad occupare tutto lo spazio e assumere la forma del contenitore che le contiene. Quando voi frequentate una donna, se le piacete, e quindi questo è un indicatore del fatto che voi piacciate a quella donna, tenderà a occupare il vostro spazio fisico, mentale, emotivo e temporale. Fisico, mentale, emotivo e temporale. Vediamoli nello specifico. Fisico. La donna occupa il vostro spazio, dimentica cose a casa vostra. State tranquilli che se non le piacete, a casa vostra non dimenticherà mai nulla, starà ben attenta a non doverci tornare in quella catapecchia della vostra casa. Invece, se le piacete, magari dimenticherà qualcosa. E attenzione, non sto dicendo che le donne lo facciano apposta. Semplicemente noterete che quando arrivano a casa vostra iniziano a disseminare oggetti ovunque. Gli viene proprio spontaneo. E poi, ovviamente, se non stanno lì a controllare in ogni minimo angolo dove hanno lasciato i loro suppellettili, beh, magari qualcosa a casa ve la lasciano. Spazio mentale. I vostri pensieri, cercano di insinuarsi nei vostri pensieri e fare in modo che voi pensiate a loro il più spesso possibile. Spazio emotivo. Stessa cosa nelle emozioni. Cercano di conquistare le vostre emozioni positive e ammaestrare le vostre emozioni negative. Notatelo. Fanno esattamente come i cani. Vi danno premi e punizioni. Vi premiano quando vi comportate bene e vi danno punizioni quando vi comportate male. Non lo fanno apposta. Gli viene spontaneo. Dovremmo imparare da loro. È spazio temporale. Per quanto tempo trascorriate con una donna sulla quale avete fatto colpo, non sarà mai abbastanza. E questo per due motivi. Il primo, che le fa piacere. Le piace stare con voi, ovviamente. Il secondo, è che è consapevole a livello più o meno conscio del fatto che più tempo trascorre con voi, più ha possibilità di conquistare il vostro spazio mentale, il vostro spazio emotivo e probabilmente anche il vostro spazio fisico. Quindi, nel momento in cui vedete che una donna si allarga non da un punto di vista fisico, ma come vi ho descritto, e allora vuol dire che state andando nella direzione giusta.